tre grandi bocciate al debutto del campionato ha perso la juventus cosa storica non era mai successo che i biancoleri fossero battuti alla prima di campionato ha perso il milan contro una fiorentina davvero forte davvero solida così come l'ha costruito sosa ha perso il napoli che era andato in vantaggio contro il sassuolo con un gol di amsi che poi si è visto ribaltare il risultato dalla forza della continuità della squadra nero verde guidata da di francesco dunque ci troviamo di fronte a un campionato che comincia nel segno dell'incertezza esattamente il contrario del dominio assoluto della juve così come si configurava un anno fa per i biancoleri c'è da dire è stato un approccio difficile anche perché sono mancati non solo tevez spirlo e vidal che non sono più della partita ma uomini importanti per il centrocampo come chedira e marchisio che erano assenti per infortunio e anche morata altro perno invece per l'attacco giocando con manzukic però allegri ha aggiunto anche degli errori propri come quello di affidare la regia a padoin che è un modesto gregario costretto a un lavoro che non era obiettivamente il suo e anche l'errore è stato quello di mettere di bala solo nel finale considerando che questo giocatore a mio avviso è uno dei migliori del campionato e potrebbe fare davvero fare alla juve un salto di qualità importante oltre che confermarsi per quel che riguarda lo stesso di bala uno dei migliori talenti del campionato il milan ha perso dicevo contro una fiorentina molto solida ma ci ha messo del suo anche qui mi hailovic confermando la difesa giovanissima che poi ha portato alla espulsione di rodrigo eli proprio nel momento decisivo della partita la fiorentina immediatamente segnato su calcio di punizione e quel dominio territoriale che i viola avevano segnato è andato poi avanti ha bisogno di forze nuove in questo milan soprattutto a centrocampo dove dovrebbe arrivare soriano dalla samp l'affare è in conclusione mentre a mio avviso non ha bisogno del reclamizzatissimo balotelli per il quale si parla di un ritorno ormai imminente addirittura a ore la scelta di balotelli a mio avviso è doppiamente sbagliata l'unico l'unica considerazione positiva è che costa poco o quasi niente nel senso solo metà dell'ingaggio e quindi dopo averlo ceduto al liverpool per 20 milioni di euro il milan se lo ritroverebbe gratis ma al di là di questa considerazione che fa balotelli si mette di nuovo in panchina da dove veniva nelle ultime esibizioni del milan a seguire le gesta di bacca e luis adriano che prevedibilmente occuperanno i ruoli dell'attacco inoltre essendo il personaggio che sappiamo quanto ingombrante potrebbe creare anche degli squilibri negli spogliatoi nello spogliatoio del milan che certamente non sarebbero graditi a un uomo come mi hai lo vc2 si sono parlati alla vigilia prima di decidere questo possibile trasferimento e si sono chiariti mario come al solito ha detto sono pronto ad accettare il mio ruolo ma credo che sia tutto da dimostrare che questo possa essere un buon affare per il milan funziona invece la prima giornata per quel che riguarda l'inter che è riuscita a vincere con un gol di Jovetic in extremis al 93esimo con i Nerazzurri in superiorità numerica 11 contro 10 contro un Atalanta che è maestra nel difendersi Jovetic è la vera novità della squadra ma l'inter ha mostrato molti degli impacci tipici della stagione scorsa cominciato male invece il Napoli di Sarri da cui tutti molti si aspettavano questo gol di Amsic in apertura non ha consentito la vittoria anche perché il Sassuolo di oggi è una vera e importante realtà